Buongiorno a tutti e ben ritrovati! Siamo lieti di presentarvi una fantastica opportunità immobiliare situata nel cuore di Trani, nella vivace Via Andria. Questa zona offre una comodità imparagonabile, con tutti i servizi essenziali a portata di mano e ottimi collegamenti con i trasporti pubblici. L'immobile è situato al quarto piano di una palazzina ben tenuta, garantendo tranquillità e privacy. La zona è ben servita e offre un'ampia gamma di servizi. Grazie alla faccia angolare gli appartamenti godono di una luminosità naturale ineguagliabile in tutti gli ambienti. Entrando sarete accolti da un accogliente di simpegno, che conduce alla cucina abitabile con accesso sul balcone. Una comoda stanzetta interna offre spazio aggiuntivo, mentre una seconda stanzetta è stata creativamente aggiunta dagli attuali proprietari per massimizzare la vivibilità degli spazi. L'ampia camera da letto matrimoniale è illuminata da un balcone, offrendo un ambiente rilassante e accogliente. Il bagno padronale è dotato di box doccia per il massimo comfort. Completa la soluzione un pratico spazio su china sul terrazzo, ideale per lo stoccaggio o per godersi momenti di relax all'aria aperta. Questa è un'opportunità da non perdere per coloro che cercano un appartamento confortevole e ben posizionato a trani. Contattateci oggi stesso per organizzare una visita e scoprire di più su questa affascinante proprietà. Contattaci per ulteriori dettagli e per prenotare una visita. Ciao, alla prossima!